All'ombra del Monte Tifata si compie l'unplein all'incontrario del Bitonto in terra campana, due partite, due sconfitte, e con l'alfa e l'omega della serie D da quelle parti, la corazzata casertana e la bagnarola, almeno all'apparenza, gladiator. Persino con quest'ultimo, infatti, reduce da ben 5 K.O. consecutivi, i neroverdi non sono riusciti a segnare né tanto meno di conseguenza a vincere e a passare il turno di Coppa Italia. Mister Claudio De Luca decide di far rifiatare gran parte dei titolari che hanno tirato finora la carretta con alterne fortune e rilancia carotenuto fra i pali, fa esordire Germinio per dar manforte in difesa all'anzolla, in mezzo il pugnace Mariani accanto all'appannato facitore di gioco Montinari. Alle spalle di un ritrovato Genchi, ecco un baluginante taurino, l'indemoniato d'Anna, e uno spaisato d'Ancora. Nell'asilo nido sammaritano di mister Martino Alessio, dimissionario e mai dimissionato, spiccano il piratesco Ciampi e il puntuale Sal, l'ex passaro ficcante alquanto con Marzano e Don Marco in mediana, a sostegno di Strianese, il genio di Tomi. Il primo tempo, giocato su un prato maculato, buono solo per i tuberi, porta una discreta messa di occasioni per gli ospiti, senza squilli però. Al quarto il fantasista tascabile Tarantino attiva ad Ancora, che scodella timidamente. Quattro giri di lancette e tiraccio insensato di Dan. 60 secondi e ci riprova Genchi, destro stavolta contrato dalla difesa avversa. Fra decimo e tredicesimo un brivido per parte. Prima l'incornata di passaro da calcio d'angolo che sfila sul fondo. Poi un traversone di Dan che viene deviato pericolosamente in scivolata disperata da Ciampi. Al quarto d'ora il trequartista ex Fermana passa come un uragano nell'area nera azzurra. Il salvataggio trafelato di Sal ed un guizzo lucente di Savelloni mantengono in tonsa la rete campana. Minuto 21, imperversa ancora Danna nei 16 metri altrui, di nuovo provvidenziale il centrale senegalese. Al ventiquattresimo, robusto tiro cross di, manco a dirlo, Danna, si rifugia in corner Savelloni. A cavallo della mezza, suave mail di Montinaro per l'estremo avversario e replica della gentilezza dell'esterno di destra. La ripresa sarà per lunghi tratti di una noia straziante, almeno finché un episodio negativo per noi non spaccherà il match. Al tredicesimo, inguardabile destro sbirolo del regista Bitontino. Dieci minuti e giallo sulla linea del fallo laterale della trequartica sertana. Arrivoli, omaggio ad eccessivo affetto Mariani, ma viene solo ammonito. Minuto 31, uscita kamikaze di Savelloni su Taurino, scovato argutamente da Richi Lattanzio nel cuore dell'area piccola. A dieci dal termine, tragica omelette della difesa Bitontina. L'anzolla si incarta, carotenuto esce, trebbia Barone e viene espulso. La susseguente punizione dello specialista Tomi trafora la barriera saltata fantozianamente e inganna il mio entrato Martellone. I gladiatori, così, incerottati e pur fieri, volano agli ottavi. I leoncelli, sdentati e afoni, tornano mesti nella gabbia di una tutt'altro che Aurea Mediocritas. I leoncelli, sdentati e sdentati e sdentati e sdentati e sdentati.